ragazzi noi ci avevamo detto si veniva il cimone ma qui siamo siamo della sega a capo nord meno 7 la temperatura la temperatura sta nevicando a bestia carabinieri non facevano lasciare la macchina lassù perché non mi facevano scendere meno male c'è l'osca yankee fox con il rub 4 che gli va in tasca alla neve però ragazzi è una cosa da paura da paura sta nevicando uno spettacolo da 11 e mezzo stamattina temperatura meno 7 meno 7 e frega 2 gradi scheglie meno 9 ragazzi guardate qui ci manca altro dell'arena di babbo natale e poi siamo al posto una cosa fantastica